Allora, mister Messina per settimana sport, appena arrivato ma si è già vista la sua mano perché abbiamo visto una vecchia audace che ha lottato, pressing, buona partita c'è un po' l'anamarico perché siete passati più volte in vantaggio e siete stati recuperati Purtroppo sì, gli episodi hanno fatto la differenza però io quello che vorrei chiesto ai ragazzi era questo intanto lo spirito è di sacrificio così almeno già abbiamo messo un bel tassellino i ragazzi hanno risposto benissimo, tra l'altro stanno allenando benissimo quindi oggi si è visto, oggi si è visto perché la squadra ha risposto bene siamo andati in vantaggio tre volte, sono stati raggiunti secondo me con due episodi in rigore secondo me non è in rigore e l'interno di 3 a 3 è fallo netto in mezzo all'aria sulla spinta però vabbè paziente, ci sta, l'albero comunque abitato benissimo, non si dice niente sbagliamo noi, sbagliamo lui a lui bene mister, il vecchio audace sembra essere sulla buona strada come lo ha visto in questi primi giorni di lavoro bene bene bene, un bel gruppo, siamo giovani, siamo molto giovani però stanno lavorando bene in settimana, vi ho visti oggi due settimane che lavoriamo quindi ancora è presto però se la risposta è questa, dai siamo fiduciosi, siamo fiduciosi di poter far bene bene, grazie mister e buona fortuna e in bocca al lupo per il prossimo campionato grazie